La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia dal 1962 garantisce la tua sicurezza. Con la creazione di fatture fazze per un ammontare imponibile di circa 3 milioni di euro sarebbe stato generato un inesistente credito di IVA successivamente utilizzato per compensare debiti e oneri di natura fiscale e parafiscale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Ips. Un'ipotesi di reato che ha portato la procura di Napoli Nord a far eseguire un decreto di sequestro preventivo di conti correnti, beni mobili e immobili, nella disponibilità di una società di capitali, del suo amministratore e gestore di fatto, nonché di alcuni consulenti fiscali. I accertamenti sono stati condotti dai militari del gruppo di Aversa, della Guardia di Finanza e dalla direzione provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate. Si chiama Iliev Slavi Borisov, il 69enne bulgaro investito nella tarda mattinata di ieri a Mondragone, in località Pineta Prisconte, lungo la strada statale Domiziana. Una Opel Corsa condotta da un 23enne di Cardito, per cause ancora in corso di accertamento, ha colpito frontalmente l'uomo che stava camminando lungo la strada uccidendolo. L'anziano è deceduto dopo essere stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castelvolturno. La salma è stata traslata presso l'Istituto di Medicina Legale di Caserta per il successivo esame autoptico, come disposto dall'autorità giudiziaria. I carabinieri di Mondragone, intervenuti sul luogo del sinistro, stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire quali eventuali responsabilità attribuire al 23enne napoletano. Con il primo sensibile calo delle temperature arriva anche la prima neve sul massiccio del Matese, per il momento a quota 1.400 metri. La neve ha ricoperto Monte Miletto, Monte Orso, dove si trova il rifugio a Cai, imbiancata la località sciistica di Bocca della Selva. L'inverno è quasi alle porte, anche in provincia di Caserta, qualche grado in meno fa subito disperare i più freddolosi. Ma niente paura. L'ufficio medio di Teleprima, guidato da Gianni De Santis, assicura che questo calo di temperatura è solo momentaneo ed è destinato a finire nelle prossime ore. Già da domani sera, infatti, si registrerà un aumento della temperatura fino a 13 gradi. Bisognerà però fare i conti con la pioggia, che non andrà via almeno fino al prossimo lunedì. Domani cielo molto nuvoloso, con piogge diffuse, in particolare dal pomeriggio sera, temperatura massima a 14 gradi, la minima a 8 gradi. Precipitazioni anche nelle giornate di giovedì e venerdì, un lieve miglioramento previsto solo a partire da sabato. Per un weekend all'insegna del tempo è stabile, non si escludono infatti piogge. Tornerà il sole, ma non prima di lunedì, ultimo giorno di un insolito novembre. Un'altra parodia letteraria sul palcoscenico dell'Ariston di Marcianise è a cura del gruppo di Teatro Distinto. Lo spettacolo, diretto e interpretato da Gabriele Russo, andrà in scena venerdì e sabato a partire dalle 20.30. Gabriele, perché Frankenstein? Perché Frankenstein? Perché intanto stiamo portando avanti questo discorso di parodie di opere della letteratura. Prima c'è stata la parodia dell'Odissea, poi c'è stata la parodia del Mago Diozzi. Adesso abbiamo deciso di fare Frankenstein perché ci mancava la letteratura horror. In realtà ci mancano ancora tante cose, però Frankenstein è abbastanza importante. Poi abbiamo preso anche altri personaggi, ecco sempre di questo tipo di letteratura. Ci saranno Dracula, ci sarà il Dottor Jekyll, quindi è un mondo che dovevamo toccare necessariamente. Qual è il punto forte di questo spettacolo? Il punto forte, e anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto quest'opera, è la tematica. Questo voler accettare anche ciò che sembra fuori dall'ordinario, questo non volersi, non doversi spaventare di fronte all'ignoto, di fronte a ciò che non conosciamo. E da questo punto di vista Frankenstein ha sempre avuto dei messaggi molto belli. Anche questa volta una chiave di lettura estremamente esilarante e simpatica. È una parodia, quindi ci sarà da ridere, si riderà, sì, spero che si riderà, si riderà, insomma. E poi c'è anche la possibilità di riflettere appunto con dei messaggi, insomma abbiamo non solo attinto da Mary Shelley, ma anche da Bram Stoker, Victor Hugo, insomma quindi sì, c'è un po' di tutto. E non avete rinunciato alla solidarietà, che questa volta è ricavato a andare in beneficenza. Esatto, insomma riusciremo anche ad aiutare le missioni, le missioni di cui si occupa la Chiesa della Santissima Annunziata a Marcianise, quindi è una cosa a cui teniamo molto. Insomma ogni anno abbiamo fatto un po' di beneficenza eppure stavolta ce la facciamo, ecco. Prima raccontavi che non c'è un unico protagonista, protagonista sono tutti, sia sul palco che dietro le quinte siete davvero in tanti. Sì, 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 questa cosa sta diventando un problema il fatto che siamo tanti. Sì, non c'è un unico protagonista, insomma questi ragazzi sono tutti magnifici, sia il cast artistico anche il cast tecnico, insomma ce ne sarebbero tanti. Devo assolutamente citare la nostra hairstylist Elena Merola che sta facendo dei miracoli perché le acconciature dei personaggi stavolta saranno un po' complesse. Poi c'è la scenografa Maria Giovanna Fretta che è pure fantastico, una sorpresa grandiosa. Poi c'è Giuseppe Turre che è questo amico che è un videomaker favoloso e ha realizzato il videopromo ispirato un po' al Frankenstein, ecco quello lì, insomma degli anni venti. Teatro distinto, già sta pensando al prossimo spettacolo, bolle già qualcosa in pentola. Ci sono tanti bei progetti, l'idea è di continuare anche su altri discorsi, non solo parodie, anche se questa cosa della parodia delle opere della letteratura ci piace troppo. E quindi forse potrebbe esserci un certo Dante Alighieri che si sta un po' offendendo, insomma non l'abbiamo ancora considerato. Ma comunque Teatro distinto ha in mente anche di lanciare un laboratorio di recitazione, un laboratorio di recitazione per bambini e per adulti. Poi verrà tutto segnalato sulla nostra pagina Facebook Teatro distinto, proprio così, molto semplicemente. Alimatola, trovi Eurogronde e la tua gronda è servita. Eurogronde, telefono 0823 48 11 16 e ti risponde l'ingegnere Pietro Di Lorenzo. Da sempre con Eurogronde. Dunque, allora, cercando di essere razionali, direi questo che secondo me è la cosa più importante dal mio punto di vista. Abbiamo una squadra che lotta sostanzialmente, abbiamo una squadra che anche per lunghi momenti gioca e la seconda partita che perdiamo per episodi all'ultimo secondo, all'ultimo minuto, insomma, ecco. Abbiamo perso una volta Eslip, tanto per arrivare subito all'episodio, nel minuto finale ha segnato, abbiamo tirato non liberi da tre per vincere, abbiamo sbagliato. È la seconda volta, brucia tantissimo, ha maggior ragione oggi che comunque al tiro abbiamo fatto pari, a rimbalzi abbiamo vinto noi e la partita l'abbiamo persa. Potevamo fare qualcosina di meglio in difesa nel primo tempo sicuramente, ma in tre o quattro giorni abbiamo messo su un sistema difensivo un po' diverso perché dovevamo proteggere Ant, che è l'unico lungo che abbiamo e quindi abbiamo un po' esasperato il concetto dei cambi perché non avevamo altre strade. Nei secondi venti minuti l'abbiamo fatto molto bene, i primi venti qualche volta siamo stati in ritardo e ci hanno punito, ma era una situazione abbastanza di emergenza, insomma. Il problema secondo me è che quando stai sempre a rincorrere il tempo, prima o poi lo paghi. Noi siamo in emergenza da sempre. L'ultima tegola la sapete tutti e stiamo sempre a parlare di partite o vinte, quelle che abbiamo vinto ovviamente, o perse alla fine, alla fine. E stiamo sempre a raschiare, a raschiare, a raschiare. Purtroppo è così. Ant, se hai visto i primi venti minuti la difesa di Cantù chiudeva solo su Ant e noi ci abbiamo perso tre o quattro palle per dare la palla a Ant. Quindi ovviamente erano preparati su questo e abbiamo dovuto fare qualcosa di diverso, che peraltro l'abbiamo fatto secondo me abbastanza bene, perché non l'abbiamo tirato male e non l'abbiamo fatto nemmeno troppe forciature. Le palle perse sono troppe. Qualcuna l'abbiamo affrettata. Mi piacerebbe che voi vedessi gli allenamenti. Noi siamo, porco Giuda, continuamente a cambiare assetti. Continuamente. E quando non c'è il playmaker, quando non c'è quell'altro, quando ora non c'è il lungo che è un 5 in difesa e tira da 3 in attacco, cambiamo continuamente. Non è così banale riuscirci. Siamo con il Presidente Corvino. Allora Presidente, ancora una volta la città si gode questa casertana, ancora una splendida vettoria della casertana. Ormai sono numeri da capogiro, una casertana che esprime ebbe il gioco. Chi continua a tenere la veste della classifica, addirittura stasera potrebbe incrementare il vantaggio sul Messina, in caso di un risultato favorevole alla casertana ovviamente. Sì, siamo contenti sicuramente, anche se come se ne resta la partita, voglio dire, dopo il loro pareggio, veramente mi ha fatto un po' preoccupare perché ho detto Dio, è levata la sfortuna qua, adesso ci perseguito un po'. Poi sì, i ragazzi sono stati bravissimi a reagire, a reagire in modo concreto, mettendo in alto tutte le loro qualità e siamo riusciti a vincere una partita perché queste partite sono partite che sono un banco di prova importante per la tenuta di una squadra perché puoi caderci e puoi fare il passo falso, invece siamo riusciti a fare questo. Per quanto riguarda il primo posto in classifica, a noi fa piacere, è una cosa inaspettata sicuramente rispetto all'inizio del campionato, c'è un'euforia, la città ci crede e noi però dobbiamo dire che adesso ci aspettano sicuramente delle partite importanti perché dobbiamo andare a Foggia, poi dobbiamo giocare con l'Andrea, con il Messina, dobbiamo andare a Pagani, voglio dire che sono quattro partite più il Monopoli che non sottovalutiamo che sicuramente possono essere un banco di prova importante. Se a fine del girone di andata saremo in queste condizioni vuol dire che siamo riusciti a fare qualcosa di importante e ci giocheremo le nostre chance per un obiettivo che sicuramente non può essere più la salvezza, ma questo per dire quale sarà il nostro obiettivo e su che cosa giochiamo, noi dobbiamo avere l'umiltà in questo momento di sapere che ci aspettano quattro partite molto importanti. Voglio sapere una sua idea per quanto riguarda i tifosi, la risposta da parte del pubblico, c'è stato o si attendiva qualcosa in più, voi come dicevo con Romaniello state facendo di tutto, insomma l'impossibile per portare più tifosi allo Stato, anche perché questa casertana e questa società lo meritano. Noi abbiamo fatto di tutto all'inizio del campionato, io lo sapevo già, infatti dall'inizio del campionato voglio abbassare i prezzi degli abbonamenti per i distinti, ho voluto abbassare i prezzi per le tribune e abbiamo fatto, ho girato le scuole, abbiamo fatto di tutto, poi voglio dire ai tifosi non è che tu puoi andarle a prendere a casa per farle venire, se forse la squadra non è ancora radicata nella città, forse questa è una città che ha bisogno di essere analizzata sotto questo aspetto, io non lo so, però era dall'inizio del campionato un pensiero sicuramente che avevo insieme a quello dello stadio e della squadra e questo pensiero mi è rimasto ancora, però più passa il tempo e più dico che noi abbiamo la coscienza a posto poi chi vorrà verrà, chi non vorrà non verrà, insomma non è che possiamo obbligare le persone a seguirci ci aspettiamo molto perché avendo molti diffusi abbiamo un'immagine diversa, uno stadio pieno i ragazzi si sentono più incitati, ma non è che possiamo, anzi noi ringraziamo tutti quelli stessi che vengono tutte le domeniche, le ringrazio di cuore veramente perché questi ragazzi che stanno nei distinti fanno un tifo, una cosa senza di loro veramente saremmo proprio il nulla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti risorsa da valorizzare lavoro e giustizia dal 1962 garantisce la tua sicurezza